Un progetto di cambiamento che parte dal basso, già abitato da voci importanti come quella di Monio Ovadia e Anna Foa. Un'idea da coltivare e perseguire adesso, proprio come il nome del nuovo movimento politico. Adesso nasce con l'idea di rinnovare, di portare una ventata di novità nella politica italiana. Nasce dall'esperienza della Scuola di Atene, che è un'associazione culturale nata l'anno scorso, che ha portato avanti questo progetto anche con dei contenuti importanti, ha stilato un programma e da questo programma è nato il movimento Adesso, che ha una connotazione più politica, ha come principi ispiratori quelli dell'antifascismo, della Costituzione e della Resistenza, ma guarda anche al futuro, guarda avanti. L'obiettivo è di dare una risposta ai delusi dalla politica partitica degli ultimi decenni e per fare questo vogliamo ripartire dalle persone, dalle comunità e dai territori, ispirandoci ai principi del confederalismo democratico, così come è stato elaborato dal leader kurdo Abdullah Ocalan, che da oltre vent'anni è nelle carceri turche. Questo primo periodo a causa dell'emergenza Covid siamo stati costretti a riunirci, a incontrarci esclusivamente online, abbiamo una pagina Facebook e un gruppo con oltre mille aderenti, siamo in tutte le regioni italiane, perché per noi è importante il radicamento sul territorio, quindi abbiamo una rete territoriale, un responsabile delle reti territoriali, che è appunto Marco Alex Braga, abbiamo un coordinatore però politico nazionale, perché ci sembra giusto avere appunto un coordinamento nazionale, che è Franz Di Maggio, e tra i tanti incontri che abbiamo avuto in questi mesi c'è stato quello con Monio Vadia, che ha accettato la carica di presidente onorario di adesso, perché condivide il nostro approccio, quindi questa visione critica dell'attuale situazione italiana e l'intento di modificare in profondità il sistema. I tempi sono necessariamente lunghi, questo però non vuol dire che non guardiamo con attenzione anche agli appuntamenti elettorali, ad esempio in Calabria, adesso per le amministrative di settembre, c'è un nostro candidato, che è Sergio Aquino, che è nel coordinamento nazionale di adesso, ed è candidato con la lista di Luigi De Magistris. Tra i nostri ispiratori ci sono appunto i grandi padri della Costituzione, come Emilio Lussu, come Leone Ginzburg e Vittorio Foa, quindi quelli fondatori della grande stagione antifascista di Giustizia e Libertà.